Questa partita dopo ci siamo andati alle vacanze con quel risultato a Bergamo, poi il pareggio a casa che non è stato un gioco molto molto bello, ma oggi abbiamo vinto, come ho detto prima abbiamo messo tutto quello che abbiamo dentro in campo e alla fine ci ha portato a questa vittoria. Con Ibra è un giocatore che vince tanti duelli, dobbiamo stare vicino e con questa seconda punta che ha fatto oggi Rafa siamo un po' più vicino a lui, lo possiamo aiutare quando vince i duelli, è andato bene con questo sistema. Cosa ha portato soprattutto nella mentalità Ibra? Anche un'autoresponsabilizzazione da parte di tutti voi, è diverso giocare con uno come Ibra in squadra, è un leader? Sì, ma io solo con la presenza, con la carriera che ha fatto, io senza parlare ai giocatori ti fa aumentare il livello, perché devi stare al livello di lui che è un giocatore troppo forte come ho dimostrato oggi. È esigente, 4-4-2 è il vestito di questo nuovo Milan, in un certo senso potrebbe favorire anche te con più presenza, insomma te la puoi giocare con questo nuovo modulo un po' più su misura su di te? Io me la posso giocare con qualsiasi giocatore, con qualsiasi sistema, ho fiducia in me, è certo che magari non ho avuto della continuità per poter aiutare la squadra, ma oggi sono entrato dopo dei tanti mesi che non ce lo facevo e niente, sono contento anche per me. Grazie. Grazie.